Rispondi. Chi li ha sparpagliati nella cenere di 18 anni di Amina? Io le ho dato la vita e tu la morte. E manco gli stracci del corpo mi hai portato a casa. Si muore quando si muore. La porta si apre e poi si chiude, basta. E tu se sei capace perché ho sbagliato, allora uccidimi. Siamo due fiumi. Che ognuno scurre dentro al letto suo. Amina ormai sono straforte di me e di te? Quasi 20 anni. E non abbiamo avuto un solo giorno di quiete. La nostra vita è cenere continua. Mai saccheggiata, stuprata, violentata. Io sono assai meglio di tutti voi messi assieme. Ma scordati che esisto. Di te mi sono già scordata. Però tu adesso ti sei portata a casa mia. Un'altra che allarga le cosce al posto mio. E tu ti credi mo' che io sono... Nel tuo letto c'è il cielo. Quando qualche volta mi strai vicino a te, sento fritto. di tutti gli anni che siamo stati assieme. Ma che è rimasta.